Buongiorno a tutti e benvenuti a questa puntata di Game Changers On Track. Siamo qui con Katie Sack, allenatrice e mamma anche di Mattia Furlani ed Erika Furlani. Luca è anche nel team, insieme a tutta la famiglia. La prima domanda che ti vogliamo fare è legata soprattutto al fatto che Mattia in questo momento ha terminato gli esami, quindi è finito l'impegno con la scuola ed è riuscito fino ad oggi a fare attività atletica a livello altissimo, a livello internazionale, coniugando gli impegni schiolastici. Ora sicuramente ci sarà più tempo, ci sarà più tempo da dedicare all'atletica, si apriranno altre possibilità, quella ad esempio di fare i doppi, i famosi allenamenti doppi, quella di fare ad esempio dei raduni all'estero, insomma la domanda è cambierà il lavoro in campo, il lavoro tecnico, l'allenamento e se cambierà come? Buongiorno a tutti innanzitutto, ovviamente inevitabilmente il lavoro che si svolgerà da qui in futuro sarà diverso da quello che è stato in passato perché ovviamente il volume crescerà, l'intensità rimanerà sempre la stessa perché dobbiamo comunque rispettare la crescita di Mattia, dell'atleta e comunque cercheremo di aggiungere qualcosa in più che in passato con l'impegno scolastico c'è stato impedito, quindi inevitabilmente cambia. Noi oggi vediamo in pista un atleta che gareggia ad altissimi livelli, un atleta bellissimo sia dal punto di vista estetico che per quanto possono apprezzare le persone che fanno atletica vedono generalmente in campo. Sicuramente ci sono delle caratteristiche, delle qualità che sono innate, e ci chiediamo invece e vogliamo appunto rivolgerti questa domanda quali sono le caratteristiche sulle quali hai deciso, hai scelto di lavorare in maniera specifica e dove sostanzialmente hai voluto incidere come allenatrice nella preparazione di Mattia? Beh, senza dubbio il potenziale genetico è importante, però accompagnato al potenziale genetico c'è anche la preparazione fisica, l'allenamento che comunque è un punto molto importante sia fisicamente che mentalmente per formare e costruire i nostri atleti. Quindi per quanto riguarda i miei ragazzi hanno iniziato con una programmazione che io ho definito a lungo termine, quindi molto presto, mettendo obiettivi a ogni programmazione, a ogni stagione, arrivando alla categoria che comunque è una categoria dove bisognava scegliere la direzione in cui andare e io sia con Erika che con Mattia ho iniziato dalla categoria allieva e dargli una direzione precisa, specifica per poter avere poi una specializzazione e costruire un futuro sia a livello fisico che mentale su quello che è la disciplina. Ti abbiamo sentito parlare della necessità da parte degli atleti di essere consapevoli di quello che stanno facendo e quindi di poter scegliere cosa fare e che direzione fare prendere all'allenamento in modo che possano arrivare in gara sicuri di quello che fanno. Cosa pensi a questo proposito? Beh esattamente, i nostri ragazzi devono essere autonomi anche perché in Pedana ci sono loro, non ci siamo noi. Noi siamo un supporto per raggiungere i loro obiettivi. Io propongo ai miei ragazzi i miei mezzi di allenamenti per far sì che raggiungano i loro risultati, i loro obiettivi fondamentalmente e quindi questo per me è molto importante, rendergli autonomi e non crearsi neanche degli alibi perché evita ogni tipo di conflitto e si ha una comunicazione anche molto chiara. E su questo ne vado fiera perché è veramente un punto di forza che io ho cercato di instaurare come rapporto con i miei atleti che tra l'altro sono anche i miei figli. Quindi l'atletica è in pista ma è anche in casa, per questo dici che la comunicazione è molto importante. Ma diciamo che poi alla fine c'è molta similitudine tra i due ruoli, però è importante distinguere i due ruoli, il ruolo da genitore e il ruolo da allenatore, che sono due ruoli che sembrano diversi ma alla fine sono molto simili perché bisogna avere anche la capacità di ascoltare e la capacità anche di captare ogni segnale e quello succede in casa e succede anche in campo. Quali sono le proposte che più recentemente ti senti di aver fatto a Mattia, ad Erika, insomma, da allenatrice? Beh, la proposta clamorosa insomma è stata di provare a fare un'altra disciplina per quanto riguarda Mattia, un'altra disciplina che non fosse il salto in alto perché avevo visto comunque le caratteristiche in lui di potersi cimentarsi anche nel lungo perché era molto veloce anche con le gare, insomma, del correre, saltare e lanciare arrivava sempre primo, quindi aveva una grande velocità di base. Quindi la proposta che io ho fatto è di provare a inserire anche un'altra specialità e lì è stato abbastanza laborioso. Ho sentito in effetti un'intervista di Mattia di qualche anno fa in cui diceva che la sua disciplina principale era il salto in alto. A posteriori, insomma, mi è apparso un po' strano. In che senso è stato laborioso? È stato laborioso perché io ho dovuto adottare una strategia. Quindi ho dovuto chiedere a Mattia di portare per una stagione intera due gare nello stesso momento e quindi sapevo che era difficile comunque andare a un campionato europeo, Andor 18, e fare le qualifiche finale sia per l'alto che per il lungo, però era un modo per fargli capire dove c'era più possibilità per lui per esaltare le sue qualità. Quindi nel momento in cui è stata fatta la scelta, questa è stata fatta in primis per volontà di Mattia, quella di spostarsi appunto verso il Santillungo. In quel momento lui era consapevole delle sue qualità in quella disciplina e ha iniziato a sognare in quella disciplina, immagino. Esatto, la mia è stata semplicemente una proposta. Non ho imposto nulla a Mattia. È stata una proposta, lui ha testato personalmente che era più giusto per lui cambiare e cambiare, poi spostarsi nel Santillungo e quindi è stata una scelta sua, una decisione sua. È molto bella questa idea della proposta. Dunque, partendo dal presupposto che ogni allenamento va adattato sull'atleta che abbiamo di fronte, quali sono, se possiamo chiedertelo, i pilastri fondamentali dell'allenamento di Mattia e come li avete sviluppati nel corso del tempo e quali invece sono i lavori che avete inserito più recentemente e che possono essere considerati più di fino, forse? Sì, giustamente i mezzi di allenamenti sono multipli e sono comuni a tutti. Ovviamente io scelgo quelli che sono più vicini a quelli che sono e caratteristiche dei miei atleti e quindi sicuramente i lavori di forza sono dei lavori che io ho sempre tralasciato, ma solo per il fatto che è molto importante prima la gestualità, la tecnica e poi dopo inserire o caricare, siamo tutti capaci a aumentare e a caricare i chili. E quindi per me è stato molto importante questo, quindi crescere in un modo graduale. Quando avete iniziato a pensare di fare dei lavori di forza? Ma io devo dire la verità, il percorso di Mattia è iniziato molto presto, perché lui già a cinque anni manifestava il desiderio di diventare un'atleta da grande. Tanto è vero che la strategia di portarlo a fare basket è stato basato su questa volontà sua e quindi per sviluppare le capacità coordinative, cognitive, che non era un campo scuola, ma comunque era uno sport che lui tra l'altro amava anche fare. Da lì poi è iniziato tutto il percorso e mano a mano che cresceva, mano a mano che passavano gli anni io inserivo qualcosa di nuovo. Però tutto ha un inizio e bisogna avere un inizio e una crescita graduale che è molto importante. La propedeutica quindi l'avete inserita molto presto? Sì, la propedeutica l'abbiamo iniziato già all'età di 12 anni, perché lui accompagnava sempre la sorella a fare gli allenamenti in palestra e quindi io la mettevo sempre a forma di gioco, diciamo. Tant'è vero che poi quando si tornava a casa trovavo smontato tutto i bastoni delle scope per casa perché si cimentava l'esercitazione tecnica delle alzate olimpiche e questo è stato all'inizio, poi mano a mano con la crescita le percentualità aumentavano ed è ovvio che poi è tutta una combinazione. E gli altri elementi principali dell'allenamento quali consideri siano? Al di là della forza e della velocità che abbiamo detto è una qualità innata. La tecnica ovviamente, perché noi parliamo comunque di una disciplina che è molto tecnica e quindi la tecnica però si acquisisce anche con la padronanza della fisica, si acquisisce anche con l'esperienza, quindi facendo anche delle gare di alto livello formano un atleta sia caratterialmente che tecnico perché poi da lì si riparte dove ci sono stati errori e c'è un'opportunità per la crescita. C'è una questione che è venuta fuori in parte prima che mi ha colpito molto e che è legata alla possibilità, anzi a dare all'atleta la possibilità di entrare in campo e di essere consapevole delle sue capacità fisiche e anche di poter gestire la propria abilità fisica dal punto di vista mentale e dal punto di vista emotivo, c'è di farlo quando serve in una grande manifestazione, in un'atmosfera incredibile come è stata quella degli europei e avendo completamente in linea gli aspetti di preparazione, la competenza fisica e quella mentale. Sì, ma di solito va a braccetto sia quella fisica che mentale, quindi quella fisica si costruisce sul campo vedendo allenarsi tutti i giorni. Quella mentale si costruisce affrontando delle gare come un campionato europeo, una Diamond League, una gara di alto livello. È ovvio che un atleta così giovane è preso dagli emozioni perché lì viene a interferire quello che è l'emozione, però alla fine si rendiamo conto che è anche quell'emozione che fortifica e che fa sì che nel futuro affrontare altre gare di quel calibro fa diventare più consapevoli. Ti senti di aver inciso d'allenatrice in questo approccio di Mattia in questo caso? Assolutamente sì, perché tutto è costruito. Ha anche la scelta di fargli fare quest'anno una gara dell'altra parte del mondo, quindi partire io e lui, fare 12 ore di volo, andare a Shanghai a affrontare una Diamond League era tutto al fine di poter formarlo e fargli capire che ci sono anche queste tipologie di gare che un atleta di alto livello deve affrontare e fare questa esperienza in modo prematuro, quindi in modo precoce, aiuta poi per il futuro. Durante i campionati europei io ho avuto occasione di guardare la gara dalla tribuna opposta e c'era questa atmosfera incredibile e vedevo gli atleti muoversi in lontananza e saltare e quindi avevo totalmente il colpo d'occhio sulla grandezza del momento e su quello che stava succedendo e mi sono domandata come vive un allenatore una situazione in cui c'è un grande caos, un grande bellissimo caos però è necessario mantenere la concentrazione e soprattutto stare con l'atleta in quello che fa e come dire, vivere la necessità di isolarsi per portare a casa un risultato o un salto. Qual è la parola d'ordine, quello che ti dici quando Mattia gareggia e quando appunto c'è questa atmosfera nello stadio? Sì, è una grande atmosfera che comunque bisogna gestire perché fa parte, insomma, che sappiamo tutti del gioco però io ho notato che sono delle gare dove c'è una grande simbiosi tra l'atleta e l'anatore si entra in un'unica bolla e te ne accorgi quando l'atleta fa i salti di prova e esce dalla pedana e ti dice esattamente quello che hai visto che dovrebbe correggere però sai che quello non è il momento per fare la tecnica sai che gli devi dare soltanto il coraggio, l'entusiasmo di poter affrontare quella gara in quel momento quindi è un momento di grande magia che è inspiegabile perché avviene tutto in modo naturale tutto in modo leggero e questo è un momento che io chiamo happiness un momento di felicità che ricerchiamo poi un po' tutti noi nella vita e questo momento è molto bello anche perché lo viviamo senza pressione nel senso che sì, affronti la tua gara se la gara va bene ci sarà una grande gioia se la gara non va come avevamo preventivato che andasse fa niente, se ritorna a casa hai avuto un'opportunità di crescita ed è questo che rende tutto più leggero tutto più magico e tutto più bello che meraviglia grazie l'ultima domanda che ti vogliamo fare anzi ti ringraziamo per la disponibilità che ci hai dato oggi grazie a voi riguarda l'utilizzo del telefono e dei social probabilmente è un argomento che apparentemente rimane un po' fuori dallo stadio, dal campo in realtà le nuove generazioni sono abituate ad avere l'utilizzo del telefono e dei social totalmente integrato nella loro routine quotidiana io se penso al mio approccio è molto diverso e per me allenarsi significava lasciare il telefono nella borsa perché per me era fonte di grande disattenzione oggi mi rendo conto che è diverso ed è tutto molto più flessibile tutto molto più facile per i ragazzi e volevamo chiederti qual è il tuo pensiero al riguardo sia da allenatrice insomma che da mamma più in generale sì esatto sì esattamente è un modo di comunicare diverso di quello che abbiamo imparato noi quindi loro sono una generazione diciamo zeda e quindi vivono in simbiosi con i social e sono molto attivi al contrario di quello che sono io però è anche fondamentale rispettarli perché se questo è il loro modo di comunicare di stare insieme agli altri di socializzare oltre ovviamente vedere i propri amici fisicamente quindi anche tramite i social perché no? se questo fa sta bene rispettiamo anche questo rispetto ad esempio all'utilizzo in campo e al fatto che si tende sempre molto a mostrare quello che si fa da atleti questo magari crea presso i tifosi e le persone che semplicemente guardano delle aspettative che pensiero hai? io ad esempio ero molto in difficoltà però mi rendo conto che anche questo è diverso oggi per i ragazzi può essere per loro una motivazione? sì, vabbè, dipende anche caratterialmente dei ragazzi io ho due esempi in casa Mattia che è molto espansivo che ama stare in mezzo alla gente che ama comunicare e Erika che è molto riservata che mi accosta anche molto come tipologia di persona e quindi ognuno di loro ha il loro carattere e se questo modo di comunicare per loro gli fa stare bene perché no? è funzionale anche lo stare in campo? è funzionale anche lo stare in campo e più che altro è gestire quello che io chiamo sempre libertà essere liberi liberi di poter sapere e utilizzare ogni mezzo affinché quello che fai gli obiettivi che ti sei imposto siano raggiunti e quindi perché imporre quello che io magari nel mio passato non ho potuto avere e quindi loro sono liberi di esprimersi come vogliono anche se abbiamo scoperto che il vero uomo social che fa i video è Luca è Luca perché è il videomaker della famiglia grazie grazie